spirulina e sai cosa mangi molteplici le virtù di questa micro alga color verde azzurro già apprezzata da maia e aztechi secondo l'organizzazione mondiale della sanità la miglior fonte alternativa alimentare del futuro tanto che pare verrà integrata nella dieta degli astronauti in per marte spirulina dimette le ali in un solo argento una miriade di sostanze beta carotene vitamina e b1 b2 b3 b6 b12 calcio magnesio sodio fosforo ferro potassio rame e selenio otto dosi al di nel gioco è fatto capelli e pelle splendente perché voi valete senso di sanità e azione dimagrante chiama spirulina brucia combatte anemia e colesterolo alto che cura l'organismo dona resistenza fisica e mentale rinforza il sistema immunitario contrasta i malanni di stagione spirulina non vuol dire più il contenuto di tre compressi fornisce gli stessi benefici vitamine e minerali di 20 carote 3 piatti di spinaci un chilo di manzo 3 cucchiai di olio di germe di grano 3 bicchiai di latte di cina in pratica un intero banchetto spirulina tanto con poco